L'Urequen è un distretto situato a ovest della costa d'Avorio, a 550 chilometri da Bijan, la capitale economica della nazione. Con una popolazione di 18 milioni di abitanti, la costa d'Avorio è il paese più ospitale del mondo, con al proprio interno il 26% di stranieri. Paese dell'Africa dell'Ovest, la costa d'Avorio è dotata di una rete stradale che la rende fiera delle proprie infrastrutture urbanistiche, le migliori d'Africa. Sul piano mondiale è il primo produttore di cacao davanti al Ghana. Il cacao evoriano ha un sapore apprezzato da tutti i produttori di cioccolato del mondo. Terzo produttore mondiale di caffè dopo il Brasile e la Colombia, mentre per quello che concerne la produzione di cauchu alla costa d'Avorio è stato assegnato un rango di noreficenza sia per la produzione industriale che per quella privata. Nella regione di Morien Cavalli, sull'asse Gleblot-Tulepli si trova Blolequen con una popolazione che si avvicina a 125.000 abitanti. Avendo sofferto della crisi politico-militare, il 19 settembre 2002 Blolequen rinasce lentamente dalle sue ceneri con i segni della guerra ancora visibili. Abitazioni saccheggiate, assistenza sanitaria inesistente, scuole distrutte, acque salmastra. Le azioni delle ONG sul territorio sono necessarie per salvare i viti umani, per non dire innocenti. La vita torna normale con il ritorno dell'amministrazione che garantisce la sicurezza della popolazione. Gli esercizi commerciali ed economici in genere hanno ripreso, seppur lentamente, la propria attività. Gli esercizi commerciali Samai, Samai bebe Samai bebe Valérie's fermatone Did Pokéde ha fadote We also in segness ه vraiment gozo You're a be back L우es prodotto Bayada's been a bebe Bayada's was just valet Ego Bodo wangé Grazie a tutti L'irrigazione per le culture rimane comunque sprovvista di una rete idrica per la popolazione che per l'approvvigionamento dell'acqua deve attingere a fonti naturali situate nella foresta con tutti i problemi igienico-strutturali che ne comporta. L'irrigazione per le culture rimane comunque sprovvista di una rete idrica per la popolazione che per l'approvvigionamento dell'acqua deve atingere a fonti naturali situate nella foresta con tutti i problemi igienico-strutturali che per l'approvvigionamento dell'acqua deve atingere a fonti naturali situate. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti